Siamo in via Kennedy a Caserta nella sede della cooperativa sociale New Hope che questa mattina presenta un nuovo progetto, un progetto che prevede un percorso formativo per queste donne, per queste ragazze che ormai da dieci anni lavorano, si battono per lanciare un messaggio importante che ricominciare è possibile in modo onesto e in modo sicuro grazie a delle professioniste che le affiancano e le aiutano in questo percorso.